Una forte bufera è attesa nel pomeriggio. Erano anni che non si vedeva un inverno così rigido. La storia di sopravvivenza del campione olimpionico Eric Lemarque. Sono qui! Dobbiamo ritrovare mio figlio. Non posso aspettare un giorno o due. Lui è là fuori! Dobbiamo vivere guardando avanti. Ma tutto ha senso solo quando ci guardiamo indietro. L'ultima discesa dall'8 febbraio al cinema. Grazie a tutti!